What do you mean? Oh 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 When you touch your head yes But you wanna say no What do you mean? Bene, rieccoci in studio Io sono già in compagnia del prossimo Spite Luca Cavalieri Uno dei digitalizzatori del progetto Eccellenze in digitale, organizzato da Google e Union Camere A cui hanno aderito diverse camere di commercio su tutto il territorio nazionale anche quella di Ragusa Assolutamente Intanto grazie per essere qui con noi Grazie a voi Allora in cosa consiste questo progetto? Quali sono state le finalità? Allora il progetto prevede comunque ha previsto perché in realtà è ancora attivo quindi ha coinvolto 64 camere di commercio per un totale di 132 borsisti perché la camere di commercio di Firenze ha stanziato più fondi quindi ha accolto 6 ragazzi 6 digitalizzatori all'interno della sua struttura Consiste sostanzialmente in attività di supporto alle piccole e medie imprese del territorio Per la camere di commercio di Ragusa i settori interessati sono l'agroalimentare e il turismo e sostanzialmente abbiamo fatto consulenza così come formazione per quello che riguarda il web marketing a queste imprese Avete già quindi organizzato alcuni corsi di formazione seminari che temi avete trattato in questi corsi? Abbiamo fatto già 5 seminari quindi sono stati 5 incontri dove abbiamo sostanzialmente spiegato le logiche di base del marketing online che sono totalmente diverse da quelle del marketing tradizionale cioè non interruzione ma attrazione dell'utente quindi intercettiamo l'utente nel momento in cui fa una ricerca online per fargli capire che la nostra azienda ha l'offerta che lui sta cercando cioè può soddisfare il bisogno specifico espresso da quella persona con la ricerca online Poi abbiamo approfondito l'aspetto dell'ottimizzazione dei siti per le ricerche e anche in termini di usabilità e conversione quindi capacità di trasformare quel visitatore in un potenziale cliente Abbiamo analizzato insieme il modo in cui è possibile utilizzare i social per interagire e poi trasformare i fan, i follower eccetera in clienti effettivi e l'ultimo che si è tenuto mercoledì invece era legato alle strategie local quindi è il modo in cui i social network e i siti web possono essere utilizzati per fare promozione locale quindi un'alternativa valida al volantinaggio piuttosto che alle forme di comunicazione tradizionale e all'utilizzo dei media tradizionali per l'appunto Ora siete arrivati quasi alla fine ci sarà l'ultimo seminario a marzo si possono fare un po' di bilanci ha avuto un buon seguito questa volta questo progetto? Sì, sì, in realtà anche l'anno scorso i ragazzi che hanno curato l'anno scorso il progetto hanno avuto dei buoni risultati seppur con un campo più ristretto perché l'anno scorso i settori interessati erano solo quello dell'agroalimentare con delle nicchie cioè quello dell'olio e della produzione di ragusano quindi comunque era chiaramente più difficile trovare imprese interessate quest'anno avendo allargato il raggio quindi un discorso meramente statistico sono stati dei buoni risultati in termini di aziende aderenti che sono 80 purtroppo appunto è l'ultimo mese quindi stiamo cercando di accelerare per cercare di soddisfare le esigenze di tutti Voi oltre ai momenti di formazione appunto avete fatto consulenza singolarmente alle varie aziende in cosa è consistito? Allora il primo incontro come prassi era quello di comprensione di quello che era il modello di business dell'azienda quindi spesso facevo compilare il business model canvas che è uno strumento proprio di analisi viene utilizzato dalle start up per progettare il modello di business però è anche uno strumento molto valido di analisi di quelle che poi sono le dinamiche con cui l'azienda si muove sostanzialmente produce e poi comunica valore Una volta compreso il modello in cui l'azienda funziona il modo in cui l'azienda funziona e anche compresi gli obiettivi abbiamo proposto delle soluzioni quindi spesso c'era da rivedere un po' il layato del sito web da inserire delle pagine piuttosto che comprendere in che modo l'azienda utilizza i social network e dunque suggerire delle tecniche di scrittura un po' più persuasive un po' più efficace oppure suggerire delle soluzioni alternative come le campagne adwords piuttosto che le campagne sponsorizzate sui diversi social a seconda degli obiettivi abbiamo proposto delle soluzioni specifiche Oggi è importantissimo per le aziende essere online ma esserci anche nel modo giusto Sì, assolutamente quello che dico sempre è che il sito web è sostanzialmente uno strumento di comunicazione di conseguenza non deve essere solo uno strumento informatico ma deve rispondere a una strategia se alla base non c'è una strategia che determina la presenza online sia sui social che sul sito web purtroppo si è fatto solo un passo però si è ancora in uno stato di pre-digitalizzazione sostanzialmente Bisogna scegliere anche il modo giusto di esserci nel senso c'è stata un po' la corsa ai social network perché quindi si crea la pagina Facebook l'account Twitter l'account Instagram però poi magari ogni social si adatta all'identità diversa delle aziende non è necessario essere presenti ovunque È verissimo sostanzialmente dipende un po' dall'identità aziendale e soprattutto dipende dal target di riferimento cioè dobbiamo andare a parlare solo in quei social in cui la nostra utenza è presente se abbiamo un target B2C quindi parliamo al consumatore finale creare la pagina LinkedIn per esempio serve meno rispetto a una pagina Facebook o l'account su Instagram quindi innanzitutto bisogna capire dove è presente il nostro target e poi di conseguenza cerchiamo di capire quali sono i social network che possiamo presidiare laddove il presidio non è la semplice apertura della pagina perché si apre la pagina ok ma poi chi ci va quanto creare delle strategie ad hoc per ogni singolo social network che è una cosa molto importante un contenuto su Twitter sarà totalmente diverso avrà un coinvolgimento diverso rispetto a un contenuto pubblicato su Facebook perché le logiche di interazione sono totalmente diverse tra i due strumenti le aziende a volte si affidano a consulenti esterni ma formare dall'interno l'azienda qualcuno proprio che fa parte dell'azienda può essere una componente in più? sì può essere una componente in più perché sostanzialmente con i social si intende rompere il muro che esiste sostanzialmente tra le imprese e i consumatori finali quindi come dicevano nel Cloutrain manifesto che è di fatto per l'appunto il manifesto della rivoluzione digitale è necessario abbattere questa barriera le aziende vogliono conoscere le persone che stanno dentro l'azienda e vogliono conoscere l'aspetto più intimo dell'azienda per questo dei suggerimenti che diamo sono quelli di presentare il personale fare delle foto mentre lavorano e pubblicarle online perché comunque è importante creare questa intimità c'è troppa diffidenza visto anche comunque il passato del marketing è spesso stato associato alla truffa sostanzialmente al non dire la verità adesso è necessario ricostruire quel rapporto di fiducia che c'era prima dell'arrivo del marketing diciamo degli anni 80 degli anni 70 e 90 pure quindi questo aspetto è molto importante è importantissimo dunque che le aziende abbiano la piena consapevolezza di come si utilizza il social network perché solo un'azienda effettivamente chi sta all'interno dell'azienda e chi respira il clima aziendale può comunicare alla perfezione quelli che sono i valori esattamente fermo restando che per poterli presidiare nella maniera efficace è necessaria una formazione fatta da professionisti no ma al di là della professionalità di chi forma è necessario che chi ci sta all'azienda vuole veramente mettersi sui social e gestirli in maniera autonoma abbia a disposizione una figura veramente formata e purtroppo non sono sufficienti due o tre mesi di formazione è necessario avere anni di formazione per poter gestire veramente appieno un canale social piuttosto che il sito web altra cosa importante è la professionalità multipla che è necessario avere per gestirli perché è necessario un grafico è necessario un content manager è necessario un analyst per analizzare i flussi le statistiche le visite eccetera quindi è veramente un approccio multidisciplinare che prevede una formazione altrettanto multidisciplinare e anche non aspettarsi chissà quali i risultati subito perché all'inizio c'era un po' la cosa mi scrivo a facebook moltiplico i clienti vendo di più no no assolutamente infatti è un forse degli obiettivi esatto si tratta di approcci di medio e lungo termine dove i risultati vengono per l'appunto nel medio e lungo termine si possono effettuare delle iniziative one shot che sono finalizzate a trovare nuovi clienti nel breve termine però chiaramente sono iniziative che sono molto aggressive quindi se vengono praticate continuamente a parte c'è un discorso economico che non sempre sono sostenibili che si parla di campagne sponsorizzate quindi per quanto i budget da destinare possono essere anche risori c'è un minimo di 90 euro al mese sostanzialmente praticare continuamente comporta una moltiplicazione di cose dunque il rischio che non sia più sostenibile e poi c'è anche un discorso di percezione che il consumatore ha di quel tipo di iniziativa un approccio aggressivo che prevede tutta questa pubblicità rischia di sostanzialmente stancare il consumatore quindi trasformare i social network che sono una piattaforma di conversazione sostanzialmente in una piattaforma pubblicitaria il rischio è che si cala una cortina il consumatore non vede più quel brand come un brand con il quale interagire ma sostanzialmente un rompiscato e quindi non disattiva gli aggiornamenti della pagina non ci segue più quindi i risultati avvengono nel meglio lungo termine perché nel meglio lungo termine che si trasforma un utente in consumatore io ringrazio Luca per essere stato con noi potete seguire gli aggiornamenti del progetto nella pagina facebook e c'è l'azienda digitale naturalmente potete avere tutti gli aggiornamenti io vi lascio adesso alla pubblicità e al meteo ci rivediamo dopo il studio what do you mean when you nod your head yes but you wanna say no what do you mean but you want to say no you want to say no but you want to say no Grazie a tutti